a parte che scivola no devi solo dargli anche se esatto se anche lo prendi in mezzo proprio vieni fuori perché a me scivola la gomma non c'è attaccato più niente bravo se poi lo fai di liti si incassa dentro dietro puoi ripartire e solo che arrivi da sotto la che ci sta ma va bene però però a falche che finisci non lo so eh se vogliamo farlo dritto vai giù in campo per me da molto senti che prendiamo quello dai che provo io dai e ma perché appena fa è nuovo perché non lo abbiamo mai fatto con il verde a rì dopo quando lo fai è un po' di qua a me non piace perché ti scivola giù è più lungo invece lì vedi ti scivola salta fuori anche di qua c'era va chi è che l'ha coperto mi ricordo che facciamo il giro quasi sotto queste serie b esatto che non servono un cazzo e bisogna tagliare via quella lì guarda che bello più comodo esci dalla fai giro sotto sotto la pianta lo facciamo capito seve seve puliamo anche questo è si si puliamo anche questo seve bello anche questo qua sotto e va bene ci mettiamo un attimo giro dietro la pianta e veniva su questo lo possiamo fare anche a scendere fate che c'è il buco neanche cagato andiamo